Pesaro, capitale della cultura scalda, i motori in vista del 2024 lo fa con una estate 2022 di grandi eventi. Una estate particolare perché segna anche il ritorno all'afflusso del pubblico agli eventi sotto forma pre-covid, sono venute meno gran parte delle limitazioni e allora il Comune presenta i suoi eventi, quelli specificatamente di carattere nazionale, 12 eventi che vedono alcune novità come il Caterraduno o l'Ulisse Fest della Lonely Planet già ampiamente anticipate nelle scorse settimane e poi naturalmente le conferme, quelle storiche del Rossini Opera Festival, della mostra del cinema di Pesaro, Pesaro Film Fest, torna ancora Pop Sofia, ci sono anche alcuni bis come Cali City e Il Post che hanno avuto tanta fortuna lo scorso anno, torna anche Matthew Lee in concerto di Ferragosto, appuntamenti di vario genere per tutti i gusti, 12 grandi appuntamenti che ci vengono introdotti dal Vice Sindaco, nonché Assessore alla Cultura, Daniele Vimini. L'idea di tre mesi in cui ogni settimana sia marcata da almeno un evento di rilevanza nazionale, chiaramente mettendo insieme tutte le iniziative sarebbero meno oltre le 12 che presentiamo oggi, sono nove tra festival e manifestazioni anche ricorrenti, alcune novità come appunto il Caterraduno e l'Ulisse Fest che saranno giugno e luglio, la conferma di Pop Sofia, la conferma del Festival del Post a metà di giugno e il ritorno di Cali City che si consolida sulla città, questo appuntamento è legato ai vini, una data secca all'11 giugno ma che già l'anno scorso ha mossa tantissima curiosità, oltre che partecipazione di tutti i produttori di vino della provincia, due appuntamenti immancabili ormai da tanto tempo, la notte delle candele che mettiamo sempre precauzionalmente per San Lorenzo 10 d'agosto con un occhio al meteo e un occhio all'incresparsi del mare e il concerto di Ferragosto che ritorna, anche questo in collaborazione in questo caso con l'APA, con la scelta di un profeta in patria, che non capita sempre, con il meteo lì, un figlio del nostro conservatorio, un pianista apprezzato in tutto il mondo e che farà divertire turisti e pesaresi per la notte di Ferragosto. Il ritorno della mezzanotte bianca dei bambini in un periodo diverso dal solito, abbiamo voluto scommettere un periodo non scolastico perché in genere la prima settimana di giugno si percudiva molta attenzione da parte del pubblico nazionale con le scuole ancora in bilico, specialmente con i calendari un po' stravolti adesso dal Covid e la conferma naturalmente di PopSofia verso la decima edizione e anche una novità autentica, almeno per la città di Pesaro, che è questo International Policy Award, che è un festival di gialli e polizieschi a partire da cinema e fiction, ma che poi arriva fino alla giallistica, libri e romanzi fondamentalmente. E questo dunque è solo quello che riguarda i grandi eventi di carattere nazionale, ma poi ce ne sono altri, non è stata ad esempio inclusa in questa carrellata la grande proposta teatrale e musicale dell'estate, ricordiamo ad esempio che ci saranno in concerto i Dinosaur Junior e i Kings of Convince e poi ci sono gli eventi più prettamente locali che tornano dopo il Covid, dalla Festa del Porto al Palio dei Braceri che tornerà a Rocca Costanza l'ultima settimana di luglio.